buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarecino da benessere ipnosi soluzione con la v maiuscola vera e professionale un'ipnosi doc di origine controllata di un antico sapere la mia ipnosi che unica al mondo non vuole senza nulla togliere agli altri non ha nulla a che vedere con quello che vedi in giro su youtube su internet in italia all'estero di gratis o di pochi spicci il mio tipo di ipnosi è diversa completamente ora parlerò risponderò ad un signore che mi sta che che ha balbuzie balbetta da molti anni il quale mi chiede come fare per uscirse dalla balbuzie ora ragazzi con l'ipnosi ci sono casi scientifici che hanno risolto casi di balbuzienti ma a parte ciò la mia esperienza personale è quella della mia associazione ipnologi associati di los angeles di cui faccio parte è fatta di ipnotisti professionisti dell'ipnosi medici psicologi psicoterapeuti di caratura internazionale ti posso garantire che molti che hanno avuto la balbuzie sono riusciti a risolverla con l'ipnosi vera e professionale e anche con un solo audio mp3 dcs di auto ipnosi vera e professionale dal titolo no balbuzie che cosa succede qui succede qui che noi balbettiamo tu balbetti tu balbetti da quando sei piccolino magari un forte spavento una forte rabbia una forte paura un qualcosa che magari hai rimosso a livello cosciente ma che ti sta causando danno e l'hai somatizzato con il balbettare un po come i cartoni animati come scupidu come in testi sacri si parla di stridore di denti come se una paura no e quindi che succede balbetti balbetti perché non hai come si dice il coraggio la sicurezza di parlare liberamente ecco perché quando uno canta balla fa qualcosa dove la coscienza è auto e messa in stand by tu parli liberamente e in maniera fluente sciolta hai capito perché allora per uscirtene o fai un'ipnosi regressiva trovi la causa l'immagine e la cancelli una volta per tutte oppure lavori con suggestioni a go go che puoi anche darti da solo alla fin fino ok però naturalmente le suggestioni cioè le parole ad hoc professionali hanno a che fare con l'arte come un artista quando dipinge che tutti sappiamo dipingere ma non tutti siamo artisti per cui anche se tu sei andato presso altri esperti di ipnosi bisogna capire che suggestioni hanno utilizzato come le hanno utilizzate che toni hanno utilizzato quante volte le hanno utilizzate non tutti utilizzano un metodo ad hoc come l'ipnosi o auto ipnosi di csv è professionale ecco perché non molti non riescono ad uscire dalla balbuzia però ricordati la balbuzia il balbettare il linguaggio fa parte del subcosciente del tuo pilota automatico della tua del genio della tua lampada di aladino ok della tua funzione automatica del parlare in automatismo come camminare respirare grattarsi guidare la macchina sono tutti automatismi acquisiti nell'arco dei tempi per cui per modificarli senza danni collaterali tutto naturale non c'è nessun danno nessun pericolo se non crede non credere a me vai su the lancet vai su life vai su riviste scientifiche internazionali scritte da medici eccetera e vedrai che non esiste un caso di ieri di oggi di domani in cui l'ipnosi fatta solo di parole 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 ad hoc ad arte che non tutti sanno dire o fare molti usano degli script leggono leggono senza capire che quando leggi non trasmetti il giusto tono eppure a scuola ci hanno insegnato le sdrucciole le bisdrucciole dove cade l'accento eccetera cioè questo è fondamentale per chi ipnotizza io mi riferisco ai professionisti dell'ipnosi che molte volte sono bravi a leggere gli script ottengono dei risultati ma non vanno oltre non vanno oltre perché non hanno il metodo giusto ragazzi ok non hanno non gli hanno insegnato il metodo giusto ora per togliere la balbuzia il balbettare lo stridore dei denti il battere i denti per la paura atavica inconscia subconscia devi utilizzare l'ipnosi o ti siedi presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona ti siedi che di quanto ti prendi quante sessioni che percentuali hai hai trattato mai casi del genere di balbuzia perché sono la trattati provaci lo stesso però lì devi farti una domanda come quando vai da un medico specialista dove vai dal cardiologo dall'oncologo dall'ortopedico ognuno anche nell'ipnosi è specializzato in una cosa poi c'è il generico che fa tutto magari ci può riuscire magari no vedete perché a me piace far parlare i fatti e non le ciance bla 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 ho 52 anni e ne ho sentite di tutti i colori ragazzi anche nel mondo dell'ipnosi bla 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 non va bene la gente stufa la gente si è stancata di fare quattro anni cinque anni sette anni dici anni presso qualche guru anche a los angeles a parigi a hong kong a canicati dovunque senza ottenere fatti risultati qui non c'è da accettare accogliere nulla di nulla noi non siamo nati né con le parole né con l'odio né con le malattie niente come non siamo nati con queste cose così sia possiamo essere liberi con l'ipnosi vera e professionale anche da soli se tu non vuoi girare cappello il tuo caro vuole girare cappello il mio metodo mezzo dices del dottor calcio seragino di auto ipnosi vera e professionale consente a te al tuo caro di premere play non pensare è il miracolo della tua mente succederà ed esclamerai wow come è successo a me ok per cui non devi credere devi soltanto fare e quindi per concludere altrimenti saremo tutta la mattina a parlare se tu hai balbuzie balbeti danni le hai provate tutte senza risultati prova l'ipnosi vera e professionale fammi tutte le domande del caso scrivimi a ipnologi associati chiocciolalibero.it io ti risponderò gratis 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 lo ripeto per tre volte compatibilmente con i miei impegni e i miei tempi e non ti fare paranoie dubbi sai ma non voglio disturbare mi vergogno tanto è completa privacy anonimato nessuno saprà nulla di nulla e poi e poi visita anche la mia fan page su facebook scusate è suonata la sveglia sono un po così però voglio dire piano piano mi aggiusto tecnologicamente e sono stato dieci anni in letargo ecco non volevo espormi perché ho una posizione da difendere perché se sto facendo ciò che sto facendo è per sdoganare l'ipnosi vera e professionale il mio metodo però di fatto non ho bisogno per mangiare grazie a dio ok questo è il concetto quindi fammi tutte le domande del caso vista la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dici essere dottor claudio saracino e fai share condividi con amici parenti perché può essere quel qui da quella molla che gli cambia la vita veramente te lo posso garantire guarda metto la mano sul fuoco e se non te la cambia te la migliora del 90 per cento a dir poco con il metodo dcs quello esatto giusto e poi vista anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dici essere dottor claudio saracino e ricordati non devi credere al sottoscritto a me essendo un san tommasiano come san tommaso se non tocco se non vedo non credo tu non devi credere devi provare magari puntare qualche soldino e capire la differenza ricordati l'ipnosi e un rilassamento della mente del corpo dove tramite suggestione cioè parola doc si cambiano le immagini da negativa a positiva come cambiare canale alla tv ma se tu non ottiene alle prime esperienze anche presso un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona risultati se in soltanto rilassato si mi sono sentito rilassato anche da questo muro molto blasonato conformista e commerciale anche dello stesso mondo dell'ipnosi beh prova un solo audio mp3 dcs segue le istruzioni della lettera e tu dirai montagna spostati ok come è successo a me che quando ho visto la dottoressa brunini ipnotizzare online su skype nel 2008 con una connessione ciofe con computer del dopoguerra con una web a gamma e un microfono mio padre paralizzato colpito un ictus fulminante per metà del corpo dove la medicina tradizionale gli avevo dato speranze per un anno e mezzo nel letto con piagli del cubito e mio padre si è alzato sul cetambula e ha camminato come un possesso da uno spirito nella sua energia mentale gli ho esclamato wow sono rimasto estasiato estasiato incredulo eppure ipnotizzavo dappertutto sulle spiagge nei ristoranti delle mie attività in italia all'estero nei miei uffici fornitori clienti dipendenti collaboratori agenti di commercio e chi più ne ha più ne metta non ero arriva con l'ipnosi conformista e commerciale pur ottima ma non ero arrivato al metodo dei metodi alla mamma delle mamme a questo sapere antico molto conosciuto a hollywood a los angeles a beverly hils e in tutta l'america latina ok del professor gara della dottoressa rina brunini miei mentori miei maestri miei associati dell'associazione iponologi associati fidati tutto ciò che vedi in giro io ho fatto molti corsi professionali in italia all'estero sull'ipnosi non hanno nulla a che vedere con questo metodo unico al mondo fammi tutte le domande ti risponderò gratis e la mia mission è quella di slogan a rli prosi il mio metodo è che anche a colleghi che magari conoscono l'ipnosi ma non conoscono questo metodo e aggiungo perché qualcuno mi ha scritto dottore ma in italia le patologie i traumi diagnosi terapie cure le possono fare soltanto gli psicologi gli psicoterapeuti i medici e anche nell'utilizzo dell'ipnosi benissimo io infatti invito tutti se hai una patologia grave eccetera eccetera di andare presso uno psicologo uno psicoterapeuta un medico però che utilizzi l'ipnosi vera e professionale attenzione ai cieli prosi che parla con i fatti e non con le ciance e bla bla ok questo è il concetto poi se qualche collega vuole imparare il mio metodo liberissimo io non sono geloso non sono invidioso sono disponibilissimo a trasmetterlo a insegnare compatibilmente ripeto ancora una volta con i miei impegni i miei tempi ok alla prossima e ricordati credi in te stessa in te stesso la balbuzia si sconfigge con l'ipnosi un bacio un abbraccio dal dottor claudio sareci